Io non sia che non sia, in quanti anni hai, sa da dove viene, ma quello che lo so, è che non è rapido, si può sbagliare a me, forse è un vicino, cazzo che non veda, non la vengono, a te. A chi ha giudito, a chi ha giudito, ti ha facciato il giudito, ma ci sono anche il giudito, a chi ha giudito, a chi ha giudito, a chi ha giudito, a chi ha giudito, E mi ha accettato il vendito, in quanto ho ho sulito, non mi fai grillo, non mi fai, così perché lo so, anche io sto bene, si iscappa, lo prego, mi fai dai, a chi ha avanti un po', io non voglio andare, Il nostro canale è www.mesmerism.info Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti